Ma questo è un campionato molto più difficile rispetto allo scorso anno perché sono scese squadre che avevano una certa caratteristica e sono salite altre che sulla carta sono obiettivamente più forti e organizzate. Questo sarà un campionato livellato verso l'alto e quindi non credo ci saranno particolari sorprese. Noi vogliamo recitare un ruolo importante nel senso che comunque ci siamo confermati negli anni e vogliamo anche quest'anno cercare di far parlare di noi. Non sarà facile ma noi ce la metteremo tutta. Battisti arriva alla Salernitana, forse l'avversario peggiore in questo momento non solo per l'organico ma anche perché ha perso in casa la prima contro l'Aquila. Di fronte troverà però un Chiedi voglioso di dare continuità alla bella vittoria di Pontedera. Ha fatto un'analisi perfetta, loro hanno perso una partita un po' particolare quindi c'è un ambiente abbastanza arrabbiato tra virgolette come giusto che sia. È una squadra fortissima però ripeto noi siamo pronti, vogliamo fare bella figura e comunque anche domenica il Chiedi sarà sicuramente un osso duro per la Salernitana. Battisti spera che in questa partita il pubblico di Chiedi risponda in maniera importante? Io ne sono sicuro, il pubblico di Chiedi risponde sempre in maniera importante. Noi i numeri sono determinanti ed importanti ma è la qualità quello che conta e il nostro pubblico di qualità ne ha da vendere.